Sullo stesso pezzo di legno proviamo se con il dog fatter riusciamo a fare battling oppure no. Con la M5K F3 non sono riuscito a non permetrarlo. La M5K F3 non sono riuscito a non permetrarlo. Non riesco neanche con il dog fatter. Proviamo con un altro trottetto di legna. Proviamo con un altro trottetto di legno.